I manipolatori hanno spesso un tratto narcisistico e si tratta di persone che hanno una spiccata tendenza a soggiogare la volontà altrui, per esercitare controllo e potere nella relazione. All'inizio si presentano come abili adulatori, riempiono l'altro di complimenti, e questa è la famosa tattica chiamata love bombing, finché però ad un certo punto iniziano a diventare ambigui, diventano gelosi, molto critici e svalutanti, finché finiscono con il tormentare l'altro senza avere scrupoli, senza provare vergogna, senza provare sensi di colpa. Questo permette al narcisista manipolatore di insinuarsi subdolamente, grazie alla fragilità della vittima, e lo fa come? Lentamente, goccia dopo goccia, con uno stilicidio di battute apparentemente innocenti. Facciamo degli esempi. Ma come ti sei pettinata? Come ti sei vestita? Il trucco è inappropriato? La pasta era sciapa? E via dicendo. Tutto questo al fine di indebolire la vittima, che inizia ad avvertire una diminuzione della sua autostima. Inoltre, come se ciò non bastasse, inizia a fare richieste contraddittorie. Il narcisista chiede una cosa e poi l'esatto contrario. Il risultato qual è? È una spersonalizzazione indotta nell'altro che inizia a dubitare di se stesso, come nel noto film Gaslight, nel quale appunto la vittima si trova isolata, perde gli amici e si ripiega su se stessa. Così il manipolatore riesce a creare tutte le distorsioni cognitive utili alla destabilizzazione della vittima. Questa è una forma di condizionamento inconscio. Infatti la vittima vede indebolire la propria volontà, vede indebolire il proprio senso critico e di conseguenza la capacità di discernere cosa stia accadendo. Molti altri video come questo nel mio canale YouTube Roberto Ruga, psicoterapeuta. Buona giornata.